Musica Salve a tutti gente sono Caso90 ben ritrovati qua su South Park del Stick of Truth Ci avevamo fermati più o meno qui Sono venuto qua perchè volevo vedere se Stan effettivamente aveva una missione per noi Ok Nuova quest l'orchessa Allora penso di dover andare a casa sua no? Penso Si mi servi per andare dall'orchessa Allora vai da Stan Dov'è la casa di Stan? Questo cos'è? Entra nel posto di Ustor del signor Ah ok Dobbiamo andare anche qua quindi andiamo prima qua vai Ci facciamo sta roba e poi facciamo l'orchessa Perchè in alcuni mi avete chiesto di fare anche la missione di Stan E effettivamente non ci avevo pensato Meglio Come faccio ad entrare lì? Ah mi dice di andare Ah ok Dove entrare qua C'era il signor Makey Vabbè Non lo saprò dire giammai proprio Ok Minchia è pieno di roba Eh Uh c'è un Pokémon L'avete visto? L'avete visto? Io si Chia Si Pokémon Ah cosa dobbiamo fare qua in mezzo? E' pieno di roba Non capisco se dobbiamo semplicemente distruggere tutto o cosa Visto che è quello che stiamo facendo Ok Penso di dover distruggere tutto Non lo so Ci facciamo strada qua in mezzo Via Vediamo un po' cosa Cosa tutto dobbiamo fare poi Così Ah aspetta un po' C'è una stradina qua Ci stanno passando i topi Ah ok Penso di poter passare anche qua E poi dove? Qua no Qua no C'è qualcosa che mi manca? Uh guarda un po' cosa c'è lì Ok C'è una sonda aliena e possiamo venire qua Olè Qua dentro cosa c'è? Eh Face painting Ok Chiavi dalla casella postale di Maki Ok E quindi una volta preso questo dobbiamo andare da un'altra parte ora no? Oh 6 nuovi amici Signor Maso Putimi Generale Mica di tutti Abbiamo un sacco di amici Vaffanculo Hai distrutto tutti i miei cazzi di vesilli Stronzo Ecco cosa voglio che tu dica a chi l'ha fatto Quando lo troverai per me Pensavo pensasse Anzi pensavo sapesse Che in realtà l'abbiamo distrutto di noi In realtà no Allora quest Vediamo un po' L'orchestra Spazio sprecato Entra nel deposito di Ustorio Signor Maso E lasciaci il suo monitor Ah ok Cacchio vuol dire? Ma dobbiamo ancora restare qua? Sì? Sì Ok Lasciaci il suo monitor Dove? Qua? Ok perfetto Oggetto rimosso monitor bianco e nero Perfetto Ok Bastava leggere praticamente La quest Cosa che non ho fatto E ovviamente Non abbiamo capito un cacchio Di quello che doveva succedere Comunque Questa è casa di Stan Ok Allora A casa tua ce l'ho già entrato Stan Nell'orchestra Penso di sapere chi è La sorella Ovviamente Ok Ok Gli lo dirò Andiamo Se noi andassimo qua? Ah ok Non c'è nessuno Perfetto Ok Allora andiamo qua Pronti? Via Minchia Si è incazzata tantissimo Si è così anche nella serie Se lo volete sapere Allora Ora hai accesso Un oggetto per le vocazioni Le vocazioni sono potenti Abilità in grado di sgominare Tutti i tuoi nemici Fai attenzione però Puoi usare una sola volta Le vocazioni Che sarebbero queste E c'è il signor Maso Frusta di cuoio grezzo Il signor Maso Perché condivida Quello che ha dentro Con un singolo nemico Eliminandolo completamente Dal combattimento Ci proviamo? Io direi di si Vai Boh Oddio Ma Amma Ok Questo era inaspettato Perfetto Abilità Ok Queste completate Ora Stan È il nostro amico Lotteremo ancora per un po' Per vedere anche le sue abilità Almeno Eh sì È stata una cosa davvero Quasi magica Devo dire Cos'è? Inbuto glaciale Colpisce una fila di nemici Con un attacco gelato Che rimuove tutti gli effetti Di stato positivi Rallenta i nemici In caso di riuscita perfetta Figata Enflige un malus di difesa Un bersaglio A tutti i nemici Dietro di lui Eh No Facciamo questa Vai Questa la polvere dei sogni La faremo poi E benefici ancora Quattro amici Ci mancano Ma tu che cacchio Ci fai là dietro Ma lo posso colpire Perlomeno Ah South Park South Park Gente Emozioni tutto il tempo Vediamo un po' Adesso di prendere Di No La riporteremo Dopo Adesso Il signor Maki Quella roba La riportiamo adesso Vai Vediamo un po' Allora Facciamo quelle Poi mi avete pregato Di fare La quest Dell'uomo orso maiale Quindi gente Facciamole via Ciao signor Maki No Sì Ok Il signor Maki È diventato nostro amico Su facebook Perfetto Tu hai qualcosa da dirci No 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 Ok Signor Marsh Non ci dice niente Wem Vabbè sì Ciao 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 Basta Aspetta ma abbiamo trovato Anche la chiave Il signor Maki Visto che ci siamo Direi di aprire Il suo cofanetto Qua dentro Se non erro Dovrebbe funzionare qua Ok Non sono popolare Blah 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 Questa non possiamo Questa è la Casella di chef Questa è Quella del signor Maki Calcolatrice Troie da dietro nove Piccola batteria Ok Prendi tutto Ok Direi di andarci Nesterno Che forse è meglio Ok Andiamo giù Per l'uomo Orso maiale Giù ho detto Vai Si scende Ok siamo nelle fogne C'è un bambino Qua dietro Ma Tua madre lo sa Che ti sei nascosto Dentro una fogna Vabbè Ok Usiamo la sandalia E veniamo qua Qua prendiamo Toppa Valkyria Ok Deve essere qualche roba Di yeah yeah Ok Penso di dover scendere ancora Vediamo un po' E siamo dentro le fogne Gari miei Boh Qua cosa c'è Crocchetta di merda Ovviamente Riconoscimento televisivo Prendi tutto Qua c'è del liquido verde Ah Oh cacchio Ok Là non possiamo passare Eh Ok Questo lo chiude Perfetto Ma lo chiude per Ah ok Lo chiude a volte sia Volte Ora Aspetta Aspetta Non passare Penso di averlo chiuso Del tutto Buono così Perfetto Allora Quindi Dobbiamo Ho sentito bene Ho sentito Howdy how Che dovrebbe essere Oddio Che schifo Che dovrebbe essere Il La crocchetta di merda Natalizza Non mi viene il nome Adesso Sinceramente Fighissimo Ok allora Abbiamo l'imbuto glaciale Direi di Di provarlo No Non ho visto Cosa devo fare Ok Penso Che lo leggerò La prossima volta Abbiamo un po' Stan A spada di Stan Condannato a morte Cosa fa? Voglio fare su quest'altro Però Abilità Disco della possenza Stan lancia un disco Letale Dal bersaglio Il disco può Concatenare Attacchi Al bersaglio casuali Figo Stan esegue un attacco Rotellante con la spada Che colpisce diversi nemici Proviamo questo Prima Totalmente A D Quindi fai clic Con il pulsante Sistra Quando vedi Ok Vai Buono E abbiamo distrutto I ratti Sì Ok Mi sono Mi sono Messo bene Ah Inbuto glaciale Voglio un attimo Allora Ti impromuto il moss In inizio del moss Finchè non inizia A perdere il controllo Poi molla Ah ok Eh non lo so Facciamogli questo Vai il soffio del drago Via Anzi polvere dei sogni Ho sbagliato Ok lo stordiamo Brutto sto tofo Abilità Possiamo fare l'altra No volevo provare Il vortice di lama E direi di prendere Una pozione del mana Se la trovo Non del mana Della potenza Stai zitto Pozione della potenza Non ne ho Ok buono Trovata Tieni qua Pozione della potenza E ci vediamo Cosa fa il vortice Prima ripetutamente AD Quindi fai clic Col pulsante destro Per un colpo finale Quando vedi lampeggiare Ok Sto premendo AD Ma non c'è del coso Non ne hai idea gente Vabbè Tieni Boom E' grande così Allora abbiamo distrutto Questa roba Prendi tutto Abbiamo fatto vittoria Obiettivo completato Consegna dati Defibrillatore Al bla 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 Però Siamo qua giù Possiamo fare qualcosa Noi Scusate Visto che ci siamo Qua sotto Che è quella roba Ah Vediamo un attimo No Però noi non parliamo Quindi Purtroppo Ok Quindi tutti i giorni Si reaga Quattro mesi fa Minchia Imbarazzante E' contentissimo Come anche la merda Vomita Ok Ok Quindi abbiamo ragione Abbiamo trovato Mr. Henke La La cacca natalizia Diciamo Così si fa chiamare Oddio E qua Dobbiamo passare Così Tiè Ah penso che da lì Si possa uscire Minchia è pieno Abilità Soffio del drago Eh no aspetta Però sta roba Colpisce anche Così dietro No Però vabbè va Facciamo così Sì stai zitta Stan parla già troppo Non va bene Tiè Guarda cosa gli ho fatto Sono troppo forte Scherzi Ah Spade di Stan Poi andarla Quando vedi lampeggiare Ok facciamoci questo Vai Minchia Ma Mimmi Piccolo bastardello Ma Sbaglio Ha fatto un casino Tipo Vabbè usiamo l'arco Via Dato che ci siamo Boom Minchia Hanno un sacco di vita Sti cosi Vai così Minchia È fortissimo Stan Gente È una cosa impossibile Oh Come faccio a buttarcelo giù da lì Scusa Eh come fa Aspetta forse devo salire qua sopra Fai vedere Sì ok Posso salire qui su Eh vediamo un po' Cominciamo a rimuovere qualcosa Aia ok Ah non posso passare qua Devo fare il giro da qua Scusami Stan Un attimo Levati tre secondi Perfetto Ok Quindi chiudiamo sta roba E penso di averne salvato uno Così no Non si sente lui urlando Perfetto Ok Amber Anche Anche la cacca ci chiede Che sta amicizia su facebook Bene andiamo a trovare gli altri Allora vediamo un po' Uh figa Ok Abbiamo capito finalmente forse come utilizzare quella Quella skill Ovvero si tiene premuto E poi quando cominciamo a traballare così Prendi Aia Prendi e gli dai il colpo finale diciamo Questo dovrebbe fare più danni E nemici rallentati Sbaglio Dunque andiamo con la spada di Stan e via Tiè Ok Ve ho distrutto anche questi qua E andiamo avanti Continuando a cercare I figli del signor Henki Del mi Anzi Sì signor Dai chiamiamolo signor Penso Penso sia più appropriato Ok Saremo qua su Si può passare da qua Ok Oh buono Trovato Ok No Cacchio Scusa se ti ho colpito Stan Però Ok quindi boss in Minchia sono un sacco Eh vabbè andiamo di soffio del drago E via Cominciamo con questo Chi è? Minchia sono esplosi? E che cavolo? Ok marchiato a morte Vai Facciamoli questo Anzi condannato a morte Boh Malus di difesa Perfetto E ora No più che abilità Devi prendere la spada di Stan E di dargli un colpettino così Chi è? E così gli ammazziamo i figlioletti Piccolo bastardello Ok Abilità Vediamo un po' Polvere dei sogni No Facciamogli il soffio del drago E via vai Ormai È tipo la nostra abilità principale Ovviamente E distrugge Distrugge tantissimo Oggetto Non so se avete visto Prego Ok ma cos'è? Ha in testa un pezzo di arachide intero Perfetto Che schifo Vabbè Ok Quindi qua abbiamo finito Direi Qua da questa parte non c'è niente Direi di passare in fretta Ok Ce l'abbiamo fatta Se io passo da qua Dove finisco? Qua dietro Se io qui Merda È proprio il caso di dirlo Ok scendiamo da qua Ah ok Siamo passati all'altra parte Ole Abbiamo fatto Abbiamo aperto uno shortcut Diciamo Via Ok gente Vediamo cosa ci aspetta anche qua Da là penso si esca Sinceramente Sono fatto Oh ecco qua dove Shit show 25 Ti è stronzi Non si fa È un povero Pezzo di cacca Eh quanti sono però Ok Ghiacciamoli Via Ti è Minchia È fighissimo L'effetto così Eh però Eh Questo io non Sta nel seguo Allora Premi ripetutamente Ad Quindi fai click Col pulsante destro Per un colpo finale Quando vedi lampeggiare Ok Sto premendo Ma non l'ha fatto Non lo fa gente Non riesco a capire Aia Aia Male Sono un sacco questi Sì fate un Un cicchetto Vai tieni Mi hanno ucciso Merda Oggetti Dove cacchio è Possione di rianimazione Mi hanno attaccato tutti insieme Non vale Mica Non si fa mica Una cosa del genere Abilità Non mi servono Un attimo qua Mica Vieni qua Tiè Boom E uno è andato Ah tre attacchi Ok Non potevo saperlo Oggetti Vediamo un attimo Ci curiamo prima di tutto Perché mi hanno ammazzato E non voglio rimorire di nuovo così Perfetto E ora Abilità Volt Folgorante È buono così Fai click quando i fili si toccano Come al solito E un po' Fatto Uuuuh Distrutti Ok abilità Vai di abilità così Boom Vediamo se riusciamo a ammazzare Tiè 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 E dai che mi sono riparato Diciamo sciamenze Ah quello è in botta Sicura E quell'altro ci attacca ovviamente Tiè Tiè Ok Allora Opzioni Pozione del mana Grande Su di me Minchia si mangia tutto quello Botta di mana Perfetto così Magia Vediamo cosa abbiamo Abbiamola L'offa silente È una potenza magia Che distrae il tuo bersaglio Lanciando Lasciandolo vulnerabile agli attacchi Perfetto Ti premuto G Fì che non vedi il gas Quindi premi Ripetutamente entrambi i pulsati del mouse Ok Vai Sto tenendo premuto G Che cazzo ho fatto Non l'ho capito Forse non ha funzionato direttamente Non ho ne idea a sto punto Comunque Ce la riproveremo poi Abbiamo abbastanza mana per riprovarci No La rifaremo poi allora Tanto questo ormai è morto Tiè Uno Gli ho fatto uno di danno Seriamente Seriamente Tiè E che cavolo Comunque Prego Ok E abbiamo trovato anche l'ultimo Dei figli 35 amici Bonus disponibile Buono così Bottiglia rotta come arma Perfetto Ok Prendiamo tutto Da qua Sembra non ci sia più niente Non ho visto ciò pokemon Poi Magari Tanto penso Si potrà anche riscendere qua Ora dobbiamo prendere E ritornare Su Cioè ritornare da loro Solo che non ho idea Di come si faccia Vediamo un po' Se riusciamo a Questo che Questa c'è lì in mezzo Non possiamo fargli niente Non gli possiamo far niente Ok Qua dentro c'è qualcosa E non so come ci si entra Lì dentro In teoria Sarà una quest Più avanti Forse Vabbè Ok quindi Qua non c'è niente Momentaneamente Scendiamo giù E via Ovviamente Gente Visto Visto che ho notato Che molte persone Magari anche Involontariamente Fanno spoiler Merda Merda Nel senso della parola Non fatelo Che è meglio Perché Mi diverto di più Se non so A cosa sto andando incontro No Quindi Se riuscite Non fatemi spoiler Potete scrivermi Magari Quest'arma è figa Quest'arma è forte Scegli quest'arma che hai Non Non lo so Roba del genere Sì Però non ditemi Tipo Più avanti c'è questo Più avanti trovi questo Se no Mi si toglie il divertimento Inutile che io ci giochi Se me lo dite già voi Cosa succede Quindi Grazie per l'ascolto E via Portiamo i bambini Al nostro Mister Enki Stronzetti Ti sembra la cagata Della domenica Ok Ok Quindi Mister Enki Signore Enki Anche un ciupokemon Mi hanno dato Che cosa Tutto mi stanno dando Ok Grazie Ci hanno dato un sacco di roba E gente Direi che l'episodio Finisce qua Spero che vi sia piaciuto Sapete già cosa tutto fare Mettere un mi piace Condividere il video Ovviamente Per far sapere a tutti Che sono stato Sulle fogne Oggi E ci siamo E prossimo qua Su un'altra avventura Ovviamente su South Park The Stick of Truth Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.